Mario Rebecchi Mario Rebecchi Sicuramente le squalifiche importanti, però chi ci sostituirà lo farà nel migliore dei modi e speriamo di fare un bel risultato anche a Manfredoni. Ecco, gennaio, tempo di mercato. Molte voci che interessano alcuni tuoi compagni, alcuni calciatori dell'AS Andrea. Sono arrivati tre nuovi acquisti, tre nuovi compagni. Qualcuno sicuramente andrà via. Sì, dispiace quando arriva gennaio. Poi dispiace perché abbiamo formato un bellissimo gruppo. I ragazzi che sono arrivati abbiamo avuto modo di conoscere, sono anche loro delle alberissime persone. Adesso vedremo chi dovrà andare via. Io ancora non so niente, sono cose che discederà la società. Ripeto, mi dispiace perché il gruppo che avevamo è fantastico. Quindi quando ci sono degli addi è sempre doloroso. Ecco, tu sei arrivato ad Andrea all'inizio di questa stagione. Ti sei subito inserito bene in questa nuova realtà calcistica. Potrebbe essere questo un punto di partenza per un tuo rilancio per il futuro. Come stai vivendo questa esperienza qui ad Andrea? Lo spero che sia un trampolino di lancio per il futuro. Io sono venuto qui con il massimo dell'entusiasmo. Le cose stanno andando abbastanza bene e speriamo di continuare così anche nel giorno di ritorno.